è una mattinata che pesco con le alacce col vino c'era troppa mancianza in superficie gli ho messo un artificiale ed è partito un mostro assurdo assurdo 5 ore a pescare con la alaccia e non prendere niente un giro con l'artificiale poi questa cosa me la devono spiegare siccome io so che è un alletterato molto grosso è meglio che ci vedo perché qua mi sta finendo il filo almeno recupero un po' questa cosa è assurda cioè non hanno voluto la alaccia tutta la mattina solo che l'unico problema è che c'è un artificiale da 6 cm con due angorette inesistenti quindi come lo sto tenendo non lo so neanche io e ancora ce l'ha la forza lo vedo è un alletteratone comunque bestiale il vivo no mamma mia è un bischone è un bischone è un bischone è un bischone da razzio grande è un bischone è un mostro gigantesco cioè questo ve lo devo fare vedere per forza guardate una mattinata che pesco con il vivo c'erano mancianze niente neanche si spaventava ho cambiato ho messo guardate che artificiale ci stiamo parlando di 6 cm con due angorette che uno l'ha spezzata guardate qua una me l'ha spezzata guardate che l'altra l'ha aperta completamente pesce preso per miracolo e stiamo parlando di 8-10 kg la roba del genere roba dei pazzi c'è la laccia viva no è un pezzo di plastica c'è la laccia viva no è un pezzo di alletteratore qua c'è tutta l'escaviva cosa da impazzire qua c'è tutta l'escaviva qua c'è tutta l'escaviva basta ma nel caso ma qua tengo e va bene così non ci sono chiamo bene poi lo è Grazie a tutti.